20 Agosto 2020, Messaggio di Nostra Signora Cari figli, non perdetevi d'animo. La strada della santità è piena di ostacoli, ma voi non siete soli. Io vi amo e sono al vostro fianco. Ancora avete lunga strada da percorrere. Non temete il peso delle prove. Cercate forze nell'Eucaristia e nelle parole del Mio Gesù. Accogliete anche i miei appelli, perché solamente così sarete grandi nella fede. Il Mio Signore vi chiama e vi aspetta a braccia aperte. Siate docili e accettate la volontà del Signore per le vostre vite. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. La vostra arma di difesa è la preghiera sincera. Coloro che sono fedeli nella preghiera mai saranno sconfitti. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Qualunque cosa accada, rimanete fedeli al vero Magistero della Chiesa del Mio Gesù. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.